una meravigliosa cagnolina che cerca famiglia accompagnata dalla nostra Anna di Oita Save Pet buongiorno Anna buongiorno a lei ma guardate questa cucciola come brava come sta buona quanto tempo ha? tre mesi quindi è una bella marine mix si verrà una super cagnolona bianca guardate è molto brava che storia ha? ha una brutta storia alle spalle iniziata bene apparentemente lei viene dalla provincia di Palermo non si sa se l'hanno comprata o adottata la famiglia a un certo punto l'ha rinunciata e allora l'hanno portata in canile al canile Agata di Trabbie in provincia di Palermo aveva trovato un'adozione in provincia di Torino ma non si sono nemmeno presentati alla staffetta quindi dal canile mi è arrivata la chiamata dicendo che la cagnolina dopo 60 ore di fare avanti e indietro doveva assolutamente essere messa in sicurezza e allora io a quel punto l'ho presa in carico come associazione e adesso è qua e aspetta una nuova famiglia allora mi sentirei di dire signorina vieni qua fatti vedere meglio mi sentirei di consigliarvela davvero perché questa è una bimba dolcissima guardate bella sembra una cagnolina dei cartoni animati allora Anna io direi di dare subito il numero di telefono per adottare la nostra meravigliosa Agata nome siciliano giustamente allora 339-821-3597 oppure scrivete a portamiacasa-dallapartigianimali.it e mi raccomando adottatela e ora qualche istante di pubblicità ritorniamo subito e non cambiate canale a tra pochissimo grazie a tutti